Poco può fare la pubblica amministrazione, ma non tutto è perduto. Sono in corso trattative per il mantenimento di una sede distaccata nella zona industriale dell'area urbana di Corigliano. La vicenda è quella dei lavoratori PAC 2000 del Conad, la cui sede operativa di distribuzione sarà presto trasferita a Montalto Ufugo, dove sono già partiti i lavori di realizzazione della nuova struttura in prossimità dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Ed è proprio questa una delle motivazioni che ha spinto la società cooperativa a lasciare la riviera ionica. Io purtroppo l'ho presa il mio insediamento, non è una decisione che è stata presa ultimamente. Le ragioni sono sempre le stesse, sono di strettissima attualità, la questione delle infrastrutture, che riguardano tanto la rete stradale quanto la rete ferroviaria. La Sibaritide perderà almeno 200 posti di lavoro, l'indotto verrà a meno e molti saranno i disagi a carico dei lavoratori interessati al trasferimento, i quali dovranno farsi carico di almeno 100 km al giorno per raggiungere la nuova sede di Montalto e non è dato sapere se saranno rimborsati. C'è la possibilità almeno di una sede di staccata nella Sibaritide, è possibile? Ma queste sono interlocuzioni che noi abbiamo e che continuiamo a ottenere. È chiaro che noi proviamo ad avere maggiori impieghi, maggiori luoghi produttivi. In questo caso stiamo parlando di Conad. Si sta trattando dunque, ma secondo indiscrezioni Conad chiede sgravi sui tributi. Matteo Lauria per l'ACI News 24.